Ciao a tutti! Oggi facciamo una crostata con la mermellata di Puglia e adesso mettiamo qui un bel crembiule. C'è pure la scritta Mary e la vita felice, vero no? Allora mettiamo per prima la farina 300 grammi, il zucchero 150 grammi, abbiamo il burro sciolto 100 grammi. Adesso mettiamo le ova, due ova, mettiamo il limone grattugiato, la e la mozza del limone. Grazie. 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 Adesso mettiamo una vanillina che è qua, un pizzico di sale e lievito per i dolci. e lo impastiamo. Grazie. 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 Allora il impasto è pronto e mettiamo, metà porzione, lo mettiamo a fondo. Allora, adesso ho finito di fare il fondo e adesso mettiamo gli amaretti dentro della marmellata di buone. Le miscoliamo insieme. Bebe! Grazie a tutti. 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 Ecco qua, la crostata è pronta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.